Io penso che l'amore vero, quello più profondo e sincero, crei una tregua dalla paura della morte. Credo che la vigliaccheria derivi dal non saper amare, o dal non saper amare bene, che in fondo è la stessa cosa. Quando un uomo coraggioso guarda la morte in faccia, come fanno certi cacciatori di rinoceronti ad esempio, è perché ama con sufficiente passione da scacciare la morte dai suoi pensieri. Fino a quando questa poi noi si ripresenta, come fa con tutti? Ecco allora, quello è il momento in cui bisogna di nuovo imparare a fare bene l'amore. Pensaci!